Ciao, sono Davide Malizia, campione del mondo di zucchero artistico e pasticceria. Oggi vi porterò con me nel magico mondo di Pontier e della sua frutta tra colori, gusti e texture. È il momento di realizzare il cake da viaggio Mango Yuzu. Per prima cosa cominciamo a mettere tutti gli ingredienti nel cutter. È interessante quando si fanno i cake da viaggio lavorare col metodo all-in. L'unica cosa che faremo a parte sarà la meringa di Yuzu, a parte con l'albumina. Bene, cominciamo. Mettiamo il burro all'interno del cutter. Se la bagna lo Yuzu, cominciamo a prendere subito la purea di Yuzu. È il momento della composta di frutta. Mettiamo subito a bollire la purea di ananas, cardamomo e Yuzu. Cominciamo a elaborare la ganache al mango, questa volta cominciamo a mettere la purea a bollire. A questo punto prepariamo la glassa anidra per il nostro cake. Questa volta abbiamo cioccolato bianco, la polvere di mango direttamente di PCB e infine burro di cacao già aromatizzato al mango. Questo è interessante. E l'olio di vinaccioli. Una ricetta veramente semplice. Mettiamo insieme i quattro elementi. Al prossimo episodio Grazie. 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 Grazie a tutti